Numero 3, Miss Lombardia Patrizia Roman, per Blanks. Numero 6, dal Friuli Venezia Giulia Elisa Maria Degano. Numero 8, Miss Emilia Annalisa Grasselli. Numero 9, Miss Romagna Rossella Angeli. Numero 10, Miss Toscana Silvia Rondoni. Numero 12, Miss Lazio Armida Ferrari. Numero 13, Miss Roma Arianna David. Numero 14, Miss Campania Ilaria Migliaccio. Numero 17, Miss Calabria Luisa Mellino. Queste erano le Miss per la Blanks. Per le Miss Eleganza, numero 26, dalla Romagna Deana Girardi. Numero 27, dalla Toscana Erika Rossi. Per le Miss Modella Domani. Numero 29, dalla Lombardia Sheileili Taiariol. Numero 31, dalla Romagna Daniela Paolucci. Numero 32, dalla Toscana Romina Roggi. Numero 33, dal Lazio Maria Rosaria Ranucci. Per le Miss Linea Sprint. Numero 35, dal Priuli Venezia Giulia Marisa Cambriani. Numero 39, dalla Toscana Susi Agnolini. Numero 40, dall'Umbria Federica Mattioli. Numero 41, dal Lazio Erika Orru. Numero 42, dalla Campania Tiziana Motta. Numero 44, dalla Calabria Pasquina Tassone. Per le ragazze in Gambissima Calzedonia. Numero 48, dalla Lombardia Simona Caponnetto. Numero 49, dal Veneto Chiara Tartari. Numero 50, dal Friuli Venezia Giulia Laura Balbusso. Numero 51, dall'Emilia Simona Casali. Numero 52, dalla Romagna Raffaella Mazzanti. Numero 54, dal Lazio Barbara Latini. Numero 56, dalla Sardegna Michela Begala. Per le Miss Bella, numero 59, dal Veneto Giuliana Toldo. Numero 60, dalla Liguria Isabelle Deschoran. Numero 61, dall'Emilia Arianna Lazzaro. Numero 65, dalla Campania Stefania Ciliberti. Per le Miss Bizarre. Numero 69, dal Piemonte Tania Piga. Numero 72, dalla Liguria Sonia Borsi. Numero 73, dall'Emilia Ramona Fiorini. Numero 74, dalla Romagna Eleonora Bottazzi. Numero 75, dalla Toscana Diana Rotta. Numero 76, dall'Umbria Claudia Angioletti. Numero 77, dal Lazio Cristina Sant'Angelo. Numero 79, dalle Marche Annalisa Bontempi. Nervo 77, dal Lazio CT. Numero 70, dal Piemonte эк Audito. Numero 75, dal Toscana dancing. Grazie a tutti